La tecnica utilizzata dai ladri per entrare nelle abitazioni è spesso quella di forzare gli ingressi sul retro e introdorsi all'interno per rubare denaro contante e oggetti preziosi. La scorsa settimana hanno addirittura rubato due auto di grossa cilindrata a Cucurano di Fano. A Finile invece sabato pomeriggio, intorno alle ore 17, tre donne rumene hanno fatto visita a due abitazioni. Mentre una di loro, ben vestita, distraeva la proprietaria di casa chiedendo informazioni su un appartamento che non riusciva a trovare, un'altra avvisa la porta d'ingresso lasciata aperta e entrata dirigendosi in camera da letto. Per fortuna, capita l'intenzione, sono state mandate via a mani vuote, pronta ad attenderle una ragazza a bordo di un'automobile di colore blu. Ma sono decine i furti e i tentati furti che ormai da diversi mesi interessano la città della fortuna, come conferma il dirigente del commissariato di Fano, Stefano Seretti. I quartieri maggiormente colpiti in quest'ultimo periodo, a cominciare già dalla primavera, tutta l'estate e anche quest'inizio di autunno, sono stati sicuramente la zona del Poderino, la zona di Via Trave e la zona di Via Fanella, toccando anche parte del Fenile, quindi proprio la strada, la direttrice che poi da Fano esce verso Santa Maria dell'Arzilla. Tutta questa zona è stata interessata da diversi furti in abitazione, molti dei quali erano a carico del Macedone che abbiamo arrestato a fine del mese di settembre, però altri sono seguiti, ci sono stati sia prima che dopo anche l'arresto, sempre in questa zona. E per prevenire questo fenomeno è importante seguire alcuni accorgimenti, ad esempio, segnala Seretti, è importante analizzare la propria abitazione perché i ladri accedono in particolare dalle zone meno in vista e quindi non dall'ingresso opposto sulla strada principale. Poi, per introdursi all'interno, forzano gli infissi con grossi cacciaviti o piedi di porco. Un altro consiglio, spiega, è di non tenere oggetti preziosi o contanti nelle camere da letto, perché sono le prime stanze prese di mira da ladri e in particolare la camera matrimoniale. Visto, considerando che adesso stiamo entrando nella stagione piena autunnale, quindi poi ci avviciniamo all'inverno, quando comincia a fare sera, già verso le 5 e anche prima, poi più tardi, sicuramente quella di potenziare l'illuminazione esterna. Questo dà molto fastidio ai ladri, proprio perché la possibilità di essere visti, di essere notati, mentre si avvicinano all'abitazione o quando cominciano ad armeggiare intorno all'infisso, intorno alla finestra, questo procura loro molto fastidio. Perché è importante denunciare? Denunciare è importante innanzitutto perché noi riusciamo in questa maniera ad avere un quadro un po' più completo della situazione, poi perché se riusciamo a trovare la rifurtiva siamo più agevolati nel capire a chi appartiene la rifurtiva che troviamo e quindi denunciare sicuramente è importante.